È un cantiere che fa vedere dove si può arrivare lavorando insieme tra istituzioni, in quel caso il Parco archeologico e la Procura della Repubblica, ma che fa vedere anche tutte le difficoltà, le complessità di un intervento di recupero di archeologia di emergenza. Vediamo al di sopra di noi la strada dove fino a pochi giorni fa correvano le macchine, al di sotto dei nostri piedi i cunnicoli degli scavatori clandestini e mezzo conservato per fortuna quello che rimane dell'ambiente servile, del quartiere servile della villa con dei vasi appoggiati qua in una posizione dove stavano già nel 79 d.C. durante l'eruzione e sono rimasti così probabilmente su una piccola mensola per quasi 2000 anni.